Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore, abbiamo ospite Vinicio, poi hai un nome particolare, Vinicio, perché ricorda Vinicio Comosella, e poi il cognome è anche un nome d'arte, ma a questo punto la prima domanda più spontanea, se dovessi descrivere oggi Vinicio e utilizzarlo come testo in una canzone, come descriveresti Vinicio? Vinicio è qualcosa che si muove ogni giorno, qualcosa che cambia, qualcosa che cerca nuove forme, si mantiene sempre attivo e non si dà mai per Vinton, né per scontato, per quello che riguarda perlomeno l'identificazione della propria essenza, quindi non fermarsi davanti a quelle che sono un po' magari anche le aspettative sociali o i normali desideri di una persona che più va avanti nel tempo, che magari si cristallizza, magari si ferma un po' a quelle che possono essere delle aspettative appunto. Quindi chi è, chi sono? Chi è Vinicio? È qualcosa che si muove, è un po' come dovremmo essere tutti quanti noi, quindi costantemente alla ricerca di un'innovazione, quindi se lo dovessi mettere in una canzone lo metterei come un pezzo di pongo, quindi qualcosa di modellabile che può assumere diverse forme, un po' come l'acqua, che poi va tanto di moda ultimamente l'acqua, sì, qualcosa di mutevole e in costante trasformazione. A questo punto parliamo andando dell'ultimo singolo, Messe al mondo, come nasce questo brano, la costra ispirazione? Allora, Messe al mondo è la seconda traccia dell'album italiano, nasce in realtà da una registrazione sul telefonino fatta, non ricordo nemmeno in che data, perché sono stato per un periodo abbastanza lungo, fermo, dopo il primo album del 2019 e il secondo nel 2020, nel 2021 sono stato fermo a livello di produzione, non ricordavo nemmeno di aver composto quella melodia lì, che poi sono andato a ricacciare dal, appunto, il telefono qui, che tiene traccia un po' di tutto. In questo periodo ho fatto, appunto, dal 2020 al 2022, ho fatto tante piccole registrazioni in casa, on-made, appunto, non ricordavo nemmeno di averle lasciate alcune sul telefono e quindi è nata dalla voglia di ricominciare, perché ho avuto diverse cose da dire, ho avuto e ho, perché ha ancora il CD, anzi il vinile che uscirà, è ancora in fase di ultimazione, quindi deve ancora essere finito. Però, avendo cominciato ad avere delle cose da dire, ho ricercato indietro nel tempo quelli che erano questi piccoli loop, questi segmenti di canzoni cominciate e mai finite. Quindi sono ripartito da lì, le ho estrapolate, le ho ritirate fuori dal buio ad orecchio, perché nemmeno li ricordavo più, le ho riregistrate ex novo, fatte meglio, perché erano anche abbozzate, e poi ho detto, bene, questa canzone qua che è aciclica, perché è proprio un loop, mi sa di qualcosa che si ripete, ovviamente, la parola stessa loop è ripetizione, e cos'è che si ripete allo stesso modo, perché questo è comunque un album abbastanza introspettivo e scatologico, spirituale, quindi cos'è che si rimuove con questa ciclicità, cos'è che si ripropone allo stesso modo come questo loop. Vedendolo dal punto di vista spirituale, un po' il senso della vita, un po' come tutto parte, ritorna, finisce, rinasce, ricomincia, che è anche poi il tema dell'album. Infatti diverse canzoni avranno questo tipo di struttura, tra virgolette, non canonica e semplificata, perché mi è venuto così, perché sta bene con il senso e specialmente con Messi al mondo, che diciamo a livello di comprensione è quella un po' più immediata, perché anche per le parole che utilizzo e la semantica del testo, che è semplice, diretta, lascia intendere subito il punto, la questione dell'album. Mentre magari altre sono un po' più machiavelliche, un po' più nascoste, tra virgolette esoteriche, questa è chiara, così, limpida, cristallina, ci fa domandare appunto da dove veniamo, perché veniamo, da dove veniamo, cosa abbiamo scelto, cosa abbiamo pensato di fare prima di buttarci giù, ci fa fare questi interrogativi e quindi c'è un inciso che dice ci siamo messi al mondo da soli, cioè come se avessimo deciso noi dove andare, dove finire, chi fossero i nostri genitori, chi fossero i nostri amici, chi dovessero incontrare, perché, per fare cosa e tutto il resto. A questo punto, non spoilerando il disco, ma nella realizzazione dei brani, questo altro tuo rifi, hai fatto un esempio classico, c'era un loop, c'era un beat, c'era un riff che ti viene in mente, ma a volte nascono prima le parole, a volte nasce appunto quel riff, quel beat, quel loop, oppure nascono insieme? Allora, spesso e volentieri, quasi nel 90% dei casi, nasce prima la musica, perché il mio processo di scrittura, poi ognuno è relativo, perché ognuno ha il suo sviluppato e perfezionato negli anni, il mio è quello di, è un po' come una tecnica dell'immersione, cioè metto il brano o il pezzo su cui vorrei scrivere qualcosa e lascio che permei nel mio subconscio la struttura. Dopo che questo succede per diverse ore, che magari sto facendo altro, quindi, non so, mi lavo due piatti, metto a posto i panni, mi alleno, eccetera, la prima melodia che ci appoggio sopra è sempre quella giusta, perlomeno per me, o mi convinco che sia così, ma dopo che ha lavorato nel mio cervello la musica per diverso tempo, mi dedico all'improvisazione, o comunque mi lascio andare e dico, adesso provo, e quello che provo è già sincronizzato, tra virgolette, a livello di ritmi, di sincopati interni, di battere e levare, di lunghezza, di strofe, di melodie, quindi parto con una linea melodica spesso basata sul fast english, quindi un po' come faceva Celentano ai tempi e cantava così, libero, che poi registro subito e una volta che l'ho registrata poi procedo all'analizzare che cosa ho detto in quei momenti, perché sono parole a caso, quindi poi trovo anche le parole giuste da inserire una volta che tutto quello che ho detto, l'ho detto a caso, poi cerco le parole giuste al suo senso, puntualmente al suo senso. In questo albero è principalmente in italiano, abbiamo visto che tu scrivi anche in inglese, la tratti molto bene in inglese, ma è più facile inserire le parole, fare una frase molto complessa, oppure sintetizzare come nell'inglese, perché poi l'inglese a volte è molto sintetico, molto grezzo, è molto più diretto. Come dici te, l'inglese è molto più diretto, è schematico, è semplice, è immediato, infatti anche per quello magari i primi due album, con il primo di debutto e il secondo di, tra virgolette, perfezionamento, la tecnica che ho utilizzato, la scrittura, sempre lì basata sul fast english, è partita proprio dal fatto che comunque provengo da quella scuola, tra virgolette, quindi da tutta la musica rock, grunge, alternative, inglese, americana, specialmente, quindi quello mi ha facilitato molto lo stile di scrittura e mi ha complicato invece la carenza di conoscenze e magari cantautoriali italiane, mi ha un po' penalizzato nella stesura di brani italiani, quindi ci ho messo un po' perché mancavo delle conoscenze, un po' perché comunque la lingua italiana è sì bella, sì molto anche rotonda, anche essa offre tante possibilità di espressione, però deve avere una cultura dietro, deve avere un lessico appropriato, anche lì deve aver fatto tanti tanti ascolti, saper scegliere il vecchio e il nuovo, perché poi l'industria musicale è sempre in movimento, quindi confrontarsi sia con quello che è ciò che sta uscendo fuori, sia però rimanendo nel ramo cantautoriale che è un po' mi ha sempre contraddistinto, perlomeno che mi sento più addosso rispetto magari al pop o allo rap, quindi è più complicato l'italiano, sì. Mi ha visto andato tornando un pochino sull'ultimo singolo, abbiamo visto un videoclip con questo colore vede, ma poi come nasce l'idea di questo videoclip, poi girato anche da Qualette, un pochettino dove, ricorda un pochettino un vecchio video del passato, ma con un po' alcune modifiche rispetto ai tuoi predecessori che avevano fatto su quel genere. Sì, beh, l'idea mi è venuta così d'impeto, un po' come quando mi vengono le parole a livello subliminale, stavo andando verso il centro e avevo alla mia destra sul sedile della macchina questa Istax 360 che è una GoPro che il mio compare, la chiamo sempre così, Alessio di Boa, si era fatto prestare da alcuni colleghi con cui lavora, lui è un videomaker molto bravo, che tra l'altro a suo punto saluto e ringrazio, avevo questa Istax 360 a fianco a me, sul sedile, che l'avevo utilizzata per girare un altro video. Mentre andavo verso il centro pensavo, però, questo c'era del potenziale inespresso qui a fianco a me, è fantastica questa macchinetta, se avrei modo mai di vederla, avrei modo mai di usarla. Fa una ripresa a 360 gradi di tutto quello che c'è intorno e hai la possibilità di metterla anche addosso, quindi, ad esempio, io l'ho messa in testa e in quel caso, per esempio, riprendevo tutto ciò che vedevo intorno a me in point of view, quindi con il punto di vista, quindi mi muovevo, si girava la testa, si girava anche la ripresa. E quindi andavo verso il centro, ho pensato di passare a salutare questo mio amico che lavora in questo locale e mi sono ricordato della particolarità che c'è nel bagno. Allora, improvvisato, ho detto, senti, sai che c'è? Prendo tutto il necessario e provo a farci un piccolo video stile anni 90, un po' la Trainspotting, con i colori di Matrix, con anche un po' il richiamo ai Green Day, per lo stile punk, che non è il mio, però per i colori e per quella voglia di ribellione che perlomeno sembrava ci fosse dietro quei brani. Poi mi sono scordato l'altra domanda che mi avevi fatto, che però ci stava bene, però comunque, bene o male, il senso è questo qua. Non ti risento. No, ok. Quali sono gli artisti in cui ci sei ispirato o che comunque artisticamente ti hanno fatto anche crescere non solo dall'ascolto, ma dallo studio in realtà? Gli artisti che mi hanno segnato di più, sicuramente dal lato italiano, specialmente in questi anni, si sentirà sicuramente tanto, sono di Subsonica, sono Daniele Silvestri, qualcosina di Gazzee, Fabi, loro sono un po' per me le tre colonne portanti, quattro colonne portanti dell'italiano, comunque quelli che mi hanno condizionato di più negli anni. C'è anche tanto di Mannarino per alcune tematiche che tratta e anche per alcune sonorità che ancora non sono state rese pubbliche, però nell'album ci sono un paio di brani che hanno molto di andaluso, tra virgolette, come a volte lo è stato anche lui. E nelle tematiche anche, cioè, spesso lui anche ha fatto riferimenti a temi escatologici comunque, o biblici, lui più biblici, diciamo, che è simile, complementare, ma non proprio identico, quindi c'è, c'è, c'è molto in italiano che adesso mi ha condizionato. Mentre in modo straniero c'è qualche artista che... Nello straniero sì, nello straniero sì, tantissimi. Cioè, nell'album, nell'album primo del 2019, Cisnoda Good Girl, si sente tanto, tanto l'influenza di Chris Cornell e di Kurt Cobain, quindi di Nirvana, degli Adioslave, dei Soundgarden. Qualcosina di Pearl Jam, ma più per una somiglianza magari timbrica vocale in alcune canzoni. Sicuramente King of Pop, Michael Jackson, per quanto riguarda le ritmiche e il fatto di mettere in molte canzoni una specie di beatbox con la voce proprio semplificato, perché non sono un beatboxer, però quando poi sono lì e risento il pezzo, sento che mancavano delle frequenzine da qualche parte, non ho grandi percussioni con cui replicarlo, facendo tutto quanto a casa, quindi inserivo magari quelle frequenze che sentivo, che mi venivano suggerite con la bocca. Questi sono un po' quelli internazionali che più mi hanno affascinato e condizionato. Quali sono le sensazioni che si provano a suonare al vivo quando poi davanti c'è un pubblico cui si emoziona e partecipa al tuo live e poi in realtà ti ritrasmette quell'energia che tu risenti e in tua volta ritrasmetti la tua energia? Qual è la sensazione che provi a quel caso? Allora, questa è una cosa veramente rara, perché riuscire a farlo con i brani propri non è semplice, soprattutto perché non hai molta possibilità di suonarli spesso, quindi sono quelle rare occasioni in cui hai degli spot dove far sentire la tua musica e arriva qualcuno. Guarda, vorrei saperlo descrivere bene perché è tanta roba, però trovare le parole non è semplice. C'è stata una volta quando ero a Dublino, che è stato fortissimo, era il 2018 mi sembra, ero in un open mic alle sponde del Sine, mi sembra, cioè che le sponde, sì, in questo locale che si chiamava il Sine. In questo open mic potevi suonare due brani. Il secondo brano che suonai era quello un po' più dinamico, si chiama The Needle of Falsehood e come ho cominciato a suonarlo ha cominciato una signora in mezzo al pubblico a battere le mani a tempo un po' tipo flamenco, e ha cominciato a farlo tutte le persone lì sotto, una dopo l'altra, a tenermi il tempo, e lì è stata una cosa che mi ha galvanizzato e mi ha fatto esprimere ancora più, con più irruenza, tra virgolette, perché comunque più giovani, pezzi molto rock, sono partito decisamente molto aggressivo e è venuta una bellissima performance a gusto mio, nel senso che mi è piaciuto tanto un po' riascoltarla negli anni e ho detto wow, ma non perché ero io, ma perché ero io e loro insieme che facevamo un pezzo che loro non conoscevano, però seguivano e hanno elevato l'energia del pezzo stesso, quello che dici tu magari sinergicamente è successo, quindi c'è stato questo scambio. Bello, bellissimo, ma raro, questo sì, raro, per ora raro, poi vediamo, magari succederà più spesso. Senza spoilerare il disco, chiaramente che è in uscita, ma ci sono aneddoti particolari, momenti particolari che stai vivendo, perché ancora il disco è in lavorazione, che puoi raccontarci di questo nuovo lavoro? Allora, quello che posso raccontare è un po' sempre il fil rouge, il leitmotiv dell'album, che è il seguire il flusso. Sto cominciando a farlo davvero, a fidarmi davvero agli eventi, un po' a quello che succede e a quello che incontro per strada, e più vai avanti con questa filosofia, più ti rendi conto che c'è qualcosa che ti sfugge e che magari ti sfuggirà sempre, ma che esiste, che c'è. Quindi, come dico in un brano che si chiama La Verità, che dice, citando, a volte penso di essere meno, a volte penso di essere molto più di me. Oppure, cercati nel processo di uccidere te stesso, che è un'altra citazione di un brano che invece è già uscito, che è Cento Te, che parla un po' del rinunciare al fascino seducente del proprio ego, che punta sempre a stare sotto i rettori, a essere in copertina, quindi a essere osannato, a lasciare, a tralasciare quello e a cercare di vedere cosa c'è dietro o sopra, a fidarsi di più e a credere meno di essere tu a fare tutto, tra virgolette, e quindi di diventare un po' qualcosa che cammina, fa cose, ma che incontra, colleziona possibilità, attituzioni, conoscenze, amicizie, discorsi, idee, e le colleziona e le porta con sé e si lascia un po' anche guidare. Quindi questo è il fil giuste dell'album, poi è questo qua. A questo punto, in attesa dell'uscita del nuovo disco, che sarà un viaggio sicuramente emozionale e particolare, con una copertina che, non diciamo, sicuramente sarà interessante perché sarà studiata, adatta per tutto questo bel lavoro. A questo punto, questo lavoro, abbiamo detto che uscirà anche in formato fisico, non soltanto in digitale. Sì, esatto. Sì, uscirà come vinile, quindi ho scelto una forma antica per anche il tipo di temi trattati, quindi visto che un po' sta tornando di moda, visto che la copertina è molto particolare, visto che anche se uno non ce l'ha il giradischi a casa, a parte che è un'occasione per comprarlo, ma comunque è un elemento d'arredo particolare, perché è come se fosse un piccolo quadro, se uno volesse, anche per il fatto che comunque è qualcosa di ancora comprensibile il vinile per noi, perché anche se è incomprensibile, perché vado a progettare, vado a creare, non sono capace, non so nemmeno come abbiano fatto a pensarlo, però c'è questi solchi minuscoli dove l'ago passa e riproduce esattamente l'insieme di frequenze che sono state messe lì per essere generate, per generare quello che è il brano che poi in questo caso io ho composto, quindi tutte quelle incanalature, fessure dove l'ago poi passa vanno a generare un attrito, un rumore e tutti insieme vanno a creare il brano, è qualcosa di magico è assurdo se ci andiamo a pensare ci sono delle delle riprese con la microcamera non so come si chiama che va a vedere proprio nello specifico con il super zoom quello che fa l'ago di riproduzione del vinile è magico, è stupendo e quindi questa forma antica ci stava bene con il genere di brani. La copertina se in realtà ce l'ho anche qua stampata perché ho fatto una prova poco prima di tornare a casa oggi la faccio vedere tanto già è solo una prova della stampa c'è il davanti e c'è il dietro di qua e sarà così questa è la track list adesso non so se si vede sì ok e di qua ci sarà poi la copertina principale con il nome dell'album che ha messo al mondo questa è soltanto una prova però per vedere se i colori ci stavano bene e se è come portarla nel mondo fisico mi faceva sentire sono contento allora mi potete trovare su Instagram con il vinismo su Facebook con Vinicio Simonetti YouTube cercando i miei video vecchi basta digitare anche lì nome e cognome Vinicio Simonetti io vi ringrazio tanto per avermi ospitato qua grazie mille Pietro di Sport Piceno e speriamo di sentirci presto per altro o comunque di aggiornarci telematicamente o vederci fisicamente è stato un piacere ciao a tutti allora noi ti diamo appuntamento alla presentazione del disco così ci saremo noi con le nostre telecamere per raccontarci in quel momento e toccare tancitamente il disco in mano quindi ci diamo appuntamento appunto per la presentazione del disco va benissimo va benissimo Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro di Pietro